amiche amici del nostro almanacoroscopo ben trovati 20 luglio oggi si festeggia san apollinare ovviamente di ravenna compleanni uno scrittore uno sceneggiatore un regista federico moccia è nato il 20 luglio del 1963 poi abbiamo il chitarrista dei chitarristi carlos santana è nato il 20 luglio del 1947 abbiamo tutti e 12 segni dall'ariete ai pesci seguiamoli in questo 20 luglio il proverbio ci ricorda a chi non vuol credere poco valgono mille testimoni ariete il settore economico appare ben protetto perciò se avete intenzione di intraprendere un'operazione finanziaria o di fare una spesa consistente magari per un prossimo viaggio fatelo pure toro potreste venire a contatto con persone straniere con le quali intrecciare rapporti d'amicizia molto gratificanti potrebbero esserci sviluppi futuri legati proprio al lavoro gemelli riuscirete ad apprendere molto velocemente ciò che dovete studiare e quindi ricaverete una buona fetta di tempo libero da dedicare solo a voi stessi serata romantica per le coppie e addirittura atomica per i singles cancro considerate gli avvenimenti nei quali vi ritroverete coinvolti dovrete essere in grado di dimostrare sempre un aspetto molto rassicurante quella persona ha decisamente bisogno di voi leone godrete di una forma fisica eccezionale merito anche delle positive situazioni che vi ritroverete a vivere oggi queste sapranno infatti imprimervi slancio e vitalità vergine mettete a frutto la vostra grande lucidità mentale per uscire da un possibile pasticcio nel quale qualcuno potrebbe involontariamente coinvolgervi stasera ritrovate i vecchi amici bilancia ci sono possibilità di incontrare la tanto sospirata anima gemella pare che cupido vi abbia preso di mira il problema è che non distinguerà tra i single e chi invece vive già un rapporto di coppia attenzione scorpione sarete molto espansivi oggi con quanti incontrerete e ciò avrà un effetto positivo sulla persona che vi sta a cuore non dimenticate un impegno familiare che avete promesso di sbrigare voi stessi sagittario un collega vi telefonerà per parlarvi di un suo problema lavorativo e voi fingerete di interessarvene anche se in realtà non ve ne importa proprio nulla cercate però di non ferirlo capricorno voglia di evadere voglia di esplorare terreni sconosciuti voglia di fare cose mai fatte insolito per voi vero eppure oggi appagherete quanto di irrazionale c'è dentro di voi acquario sarete tristemente apatici e rischierete di ritrovarvi a trascorrere un sabato in completa solitudine siccome non è affatto ciò che volete reagite prontamente al malumore aggregandovi ad un gruppo simpatico pesci non sarà una giornata facile per voi che avete la testa in un progetto lavorativo che volete assolutamente concretare svagatevi almeno in serata se non volete suscitare le ire del partner